bentornati a radio wine design diretta dall'istituto di design di perugia abbiamo con noi giovanni cenci della cantina cenci benvenuto buonasera grazie all'istituto di design mi raccomando parla vicino al microfono che sennò ma c'è la voce alta si sente io sono nicola e sono quello ignorante del vino infatti io berrò e voi racconterete questo vino sì io ho preparato delle domande per te molto interessanti e un pochino per sciogliere il ghiaccio io so che i tuoi la tua azienda i tuoi vini il tuo marchio ha delle note risalenti a medioevo appunto nell'archivio storico di perugia facendo riferimento ai monaci olivetani puoi un pochino insomma spiegarci in che senso mentre io lo bevo vai allora l'azienda la cantina in particolare ha proprio sede in un antico monastero dei monaci olivetani che è un sottordine dei benedettini quindi sapete bene i benedettini ora e clabora gente seria gente seria quindi sì la preghiera ma bisogna anche trovare i diletti del lavoro e quindi della tavola e in particolare del bicchiere erano esperti selezionatori delle migliori terre avevano praticamente in Umbria gran parte delle terre Umbre erano di proprietà dei frati e dove sono nate questi insediamenti erano le terre più vocate all'agricoltura quindi grandi terre importanti con delle caratteristiche uniche sì sì e altra domanda tu presenti la tua azienda come un'azienda biologica però allo stesso tempo parli sempre di innovazione e tradizione in che senso hai collegato questi due termini che forse possono sembrare contrastanti ma in effetti vanno continuamente collegandosi fondamentale è legarsi al territorio e regarsi alla tradizione del territorio alle uve del territorio in questo momento stiamo bevendo il grechetto è un'uva estremamente radicata antichissima ne parla colummella quindi l'uva importante del centro Italia abbiamo la quindi la tradizione quindi riprendere le tradizioni e tutti i metodi di coltivazione che erano antichi dei frati e dargli una una veste e un'impronta comunque moderna cioè contemporanea meglio che se no all'istituto del design poi ci trattano male sul moderno e il contemporaneo assolutamente no assolutamente no e ma comunque affrontare per esempio la la viticoltura biologica in questo momento è alla ricerca di nuove strategie per ridurre sempre di più l'impatto ambientale in particolare per il rame siamo proprio stiamo continuamente alla ricerca di metodi innovativi per per avere un minimo impatto ambientale e quindi anche in azienda mettiamo in campo tutte quelle pratiche agronomiche cioè in realtà è tanto lavoro manuale eh abbiamo ridotto col passare del tempo ho ridotto molto anche l'utilizzo delle macchine per esempio la la prepotatrice che prima utilizzavo che è un una macchina che si attacca davanti al trattore e serve per eh accorciare i i tralci in inverno in modo che quando vai a potare il lavoro è più veloce però ho notato nel tempo che questa macchina causava delle eh delle lesioni a a livello de eh strutturale che poi ti porti dietro nel tempo che quindi non ti permetteranno di avere un una vigna vecchia da dove si fa il vino buono e la vigna vecchia fa il vino buono non è la vigna usa e getta quindi bisogna anche è un po' controcorrente perché nella viticoltura moderna si dice che una vigna massimo dura 20-25 anni poi è bene stirparla perché non è più eh producente eh sì perché produce di meno ma noi bisogna guardare la qualità e bisogna mettere in in campo tutte quelle eh quelle strategie che ti permettano di portare una vigna oltre i quarant'anni cinquanta dove le radici riescono ad andare in profondità e quindi a trarre a trarre dal terreno tutte quelle sostanze minerali importanti che rendono i vini grandi e li rendono profondi e dove si sente il territorio una vigna giovane sicuramente non ha queste caratteristiche molto tecnica quindi il fatto di innovazione e tradizione tradizione un pochino legandoci a quella dei monaci che tu ehm prima accennavi quindi un pochino come si faceva prima come si faceva prima come ha fatto il mio bisnonno come ha fatto il nonno e come ha fatto mio padre che poi ha abbandonato questa questa produzione perché i tempi cambiavano gli era morto il padre eh da da giovane quindi è veterinario ha fatto ha fatto altre cose l'uva l'ha venduta io ho detto rimettiamo in piedi eh l'azienda ridiamogli un nuovo slancio e lì per lì non non erano molto fiduciosi sulla cosa io ho fatto vendere la casetta al mare che ci avevano hanno rosicato hanno rosicato però non so più tempi ormai da andare al mare sono tempi di lavoro i tempi so ormai sono cambiati cioè la pacchia è finita la pacchia è finita andiamo a lavorare nei campi sono d'accordo anche perché sei più o meno sono dieci anni no che l'azienda Cenci con te ha ripreso vita esatto e io vengo da comunque da un percorso molto coerente io a un quarto superiore ho detto basta cazzate basta cazzate basta mare basta mare no ma no soprattutto ho detto il vino mi piace molto o quindi diamogli un indirizzo professionale altrimenti alcolismo e ho fatto il mio primo corso da sommelier giovanissimo c'è tu hai fatto il corso sommelier col motorino a 17 anni certo andavo con la valigetta sommelier col motorino professionista è stato e infatti credo che sono uno dei più giovani che ha fatto questo corso e poi questa questo percorso è andato avanti è diventato un percorso universitario in viticoltura e enologia poi approfondito tecnologia biotecnologia degli alimenti e intanto vinificavo da queste terre per capire i segreti che la terra aveva perché la terra aveva e solo dalla vinificazione e dagli esperimenti da andare a prendere l'uva dalla cura della vigna uno può capire con quello che con cui ha che fare dal 2003 vinifico da questa da queste terre quindi ormai sono un po è ben piazzato sì sì sono un po di vendemmie che fa sta cosa e prima sono partito con la vinificazione con due fustini da 30 litri e poi mi sono comprato due sempre pieni da 3 tolitri e poi 5 tolitri e poi ho detto basta che il vino viene bene ci siamo ci siamo basta di regalarlo perché poi sono dell'acquario quindi sono molto dei soldi vengono sempre in seconda battuta rispetto a tutto il resto però dice rendiamolo lavoro rendiamolo un realizzarsi insomma di quello che tu hai iniziato a 17 anni insomma non è soltanto è questo è andato avanti e dopo mi è piaciuto talmente tanto nel 2010 che stavo scrivendo la tesi sono la tesi defogliazione precoce sul ciliegiolo una tecnica particolare che prevede defogliazione in prefioritura quindi i tralci non sono neanche cresciuti sono con sette foglie ancora sono piccoli li vai a defogliare dice ma sei matto invece lo rafforza no lo rafforza perché il grappolo trarrà tutti i benefici dal sole senza ustionarsi perché perché si abitua lui si eccita parlando di queste cose come io mi eccito parlando di una power bank o di un microfono effettivamente avere qui avere qui un produttore che lavora la terra ci rendiamo conto che la passione che c'è dietro a una bottiglia un calice di vino e ragazzi è reale cioè è carne che abbiamo qui è proprio in fissa sei in fissa ma è fighissima sta cosa cioè quando vedo uno che è in fissa per una cosa è fantastico questo lavoro o te manda in fissa o non lo puoi fare perché le ore di lavoro ma no ma lavoro fisico importante è un lavoro mentale ancora di più abbiamo a che fare con una cosa viva noi abbiamo qui qui una bottiglia che per per portarla a permettere il tappo c'è stato un percorso di agricoltura quindi in percorso biologico ci sono i microrganismi che l'hanno fermentato e ancora vivo quindi anche la paura che ti mette la sfida di ogni anno è una sfida diversa io ancora non c'ho un'esperienza lunghissima quindi quanto c'ho 15 vendemmie che non ce n'è una uguale certo non ce n'è una uguale all'altra e le differenze però ti rendono vivo ti rendono vivo perché non sei mai arrivato e anzi è molto socratico come come approccio cioè più vai avanti più sa più conosci e più dici non ci ho capito niente e più sai di non sapere perché gli argomenti cioè sono è talmente vasto la conoscenza uno deve sapere di prima di tutto d'agricoltura di biologia di agroecologia e poi di chimica di di fino arrivare anche alla vendita perché anche quello bisogna saper fare perché se faccio un vino buonissimo e poi non lo sai vendere e poi ne rimane in cantina sarà ancora più buono tra dieci anni ma continua a rimanere lì e certo vabbè anche un investimento no quello di riuscire a vendere il vino saper parlare saper approcciare le persone anche quella è una sfida non è soltanto la sfida l'annata che è diversa ogni volta ma anche riuscire a presentarsi al pubblico assolutamente andando avanti eh hai 40 ettari di cui sei evitati quindi tra bacca bianca e bacca nera il grechetto il trebbiano petit verdot anche se non erro bravissima petit verdot e il merlot con la porzione che utilizzo per il blend sul san viaggio a un percentuale del 5 7 per cento quindi effettivamente ai sei prodotti o sei prodotti alcune volte sette e poi c'è una specialità che dopo spoiler dopo parliamo della specialità la produzione fondamentalmente ruota attorno ai vitigni tradizionali eh del del perugino che sono il grechetto che sicuramente lo considero il padrone di casa perché e e rappresenta anche l'anima umbra veramente nel profondo eh abbastanza chiuso che poi che poi ti concede invece ti concede tanto eh il tannino quindi la rusticità un pochino st'animo appenninico eh della eh di chiusura e un alcol sempre generoso quindi alla fine quando poi l'avete capito che con gli umbri quando c'entri in confidenza poi è un'amicizia vera profonda inizialmente però siamo chiusi non è che è così io sono nato a pubblico un po' diverso quindi c'è quel gene più matto c'è quel gene sì in effetti noi questo l'abbiamo aperto circa mezz'oretta prima ed era chiuso lui è spaventatissimo oddio ma non si apre invece si è aperto quindi come la metafora che stavi chiaro ma è la rappresentazione l'irpino sono uguale tu sei un campano fuori sede fuori fuori categoria l'irpino è come l'umbro come atteggiamento e grandi vini dell'irpinia esatto il grande fiano aggiungere anche grandi mozzarella io che sono un appassionato di mangiare vorrei vedere e non contaminate soprattutto no quelle no quelle sono dalle parti di Eliana che asservo il turno doget proprio esatto vabbè non perdiamoci in cianci fischi dicevamo in cienci dicevamo i vitigni quindi i tre vitigni autoctoni della nostra zona quindi il grechetto in purezza una breve macerazione una breve fermentazione il legno e poi in botte grande e poi batonage quindi rimane sulle proprie fecce che è fondamentale per il vino la stabilizzazione la via della stabilizzazione naturale cosa vuol dire batonage perché io sono quello ignorante tra di voi batonage dal francese baton sarebbe il bastone a ok quindi batonage è bastonatura nel senso che il vino tende naturalmente a decantare quindi a ripulirsi da tutti i lieviti in sospensione da tutte le particelle il batonage è quella pratica che rimette tramite un bastone in sospensione quel deposito che andrebbe altrimenti sul fondo non si è riattiva ma il lievito va il lisicellulare che è un processo enzimatico che degrada la cellula di lievito trasferendo al vino tutti quei composti come le mannoproteine e che permettono la danno le rotondità stabilizzano il vino e danno quei sentori un po di crosta di pane che poi ritroviamo molto evidenti sui sui metodi classici perché il contatto è ancora più prolungato fino a 3 2 3 anni questa potrebbe essere una ragione per cui non fai la malolattica per i bianchi perché oggigiorno è una tecnica che molti stanno usando anche per i bianchi allora la malolattica è la seconda fermentazione che avviene ad opera dei batteri lattici a differenza sul vino abbiamo due tipi di fermentazione la fermentazione alcolica che è la prima fermentazione che è ad opera dei lieviti e è la degradazione dello zucchero in alcol e anidride carbonica e composti secondari chiaro il vino è tutto e calore chiaramente il vino può può andare incontro ad una seconda fermentazione auspicabile sempre nei rossi o quasi sempre nei rossi e non sempre ricercata nei bianchi questa seconda fermentazione invece ad opera dei batteri e la degradazione dell'acido malico in acido lattico l'effetto gustativo è una riduzione dell'acidità della pungenza dell'acidità e un arrotondamento la morbidezza la morbidezza io voglio i bianchi taglienti voglio i bianchi minerali freschi e in più con i ph che ho le malolattiche non me le fanno quindi è la naturale via desto vino perché perché con ph 3 1 la malolattica difficilmente avviene difficilmente parte in più i bianchi tendono a ripulirsi più velocemente dei dei vini rossi e quindi le condizioni della malolattica vengono meno i batteri sono un pochino le principessine della cantina non so i lieviti sono capito so so rustici so guerrieri comunque anche nelle condizioni più estreme riescono a svolgere la propria azione invece i batteri lattici sono un pochino molto delicatini e bisogna comunque creargli le condizioni ottimali affinché questo possa avvenire bisogna saperci fare insomma con chiaro sono sempre in grado di traslare tutto sul lato sessuale anche nel vino chiedo scusa liana torna in serie a tutto quanto prego no invece per i rossi che tipo di procedura usi quindi fanno anche lì acciaio poi fanno botte allora i rossi sono tutte fermentazioni spontanee quindi quindi non c'è l'aggiunta di lievito ok fermentazioni spontanee proprio senza neanche un piede di fermentazione quindi non è che prepara un contenitore che già fermenta per poi metterlo ma lascio le uve all'interno nel caso del sangiovese per esempio delle botti di legno metto il vino e metto l'uva dentro con tutti le bucce perché la fermentazione rosso prevede il contatto con le bucce quindi una macerazione per l'estrazione del colore e le metto là e tempo 24 48 ore vi è un avvio naturale delle fermentazioni la fermentazione a quel senza controllo di temperatura e fermentazioni il tempo di fermentazione è variabile perché abbiamo a che fare con processi che ogni anno sono differenti ogni e ogni vasca è diversa da un'altra certo quindi è tutto un pochino è sempre una nuova scoperta una nuova sfida ogni annata no ogni annata una nuova sfida e sicuramente il sangiovese mi dà delle peri rossi mi dà delle soddisfazioni immense anche perché il tempo di lavoro che richiede in vigna è immenso cioè devi davvero vai a togliere le foglie però non troppe perché se togli le foglie che l'ombreggiano si potrebbe bruciare quindi devi andare a togliere le foglie tra i grappoli quindi creare come un canale all'interno della del filare della vigna in modo che vi sia un buon arieggiamento una circolazione di aria per ridurre il più possibile le l'umidità e quindi tutte quelle condizioni che porterebbero a all'istaurarsi delle muffe in particolare è la peronospora che è una grave il cataclisma del vigneto e successivamente in fase di maturazione la botrite quindi la muffa grigia quella che dà i marciumi che dà poi tutte ossidazioni e un sacco di problemi per il vino oltre alle micotossine che sono cancerogene quindi bisogna essere molto attenti e solo con le macchine queste cose ecco tradizione innovazione con le macchine queste cose non si possono fare la vigna vuole la mano dell'uomo vuole per esempio il 2014 che è stata un'annata molto piovosa ho dovuto il sangiovese è composto da un corpo centrale e un'aletta quindi è un grappolo eh diciamo fatto in questo modo sì chi ne vede capito con l'aletta e il corpo centrale piogge incessanti ho tagliato tutto la tutti i corpi centrali lasciando solo l'aletta con una me so auto un'autocastrazione per il 70 per cento ma io l'uva l'ho riportata al vino l'ho fatto e spacca è buonissimo cioè è una roba una roba incredibile quindi anche prendere delle decisioni drastiche 2017 caldissima caldissima dopo 23 22 23 24 aprile ci sono state tre giorni di gelate consecutive con temperature fino a meno 4 gradi nel periodo in cui la vite è molto sensibile perché sapete che ehm la il germogliamento quindi le gemme che si aprono piccoline e i piccoli germogli con le foglioline certi di qualche centimetro eh riparte ai primi di aprile siamo arrivati al venti che avevamo circa dieci centimetri dei germogli molto teneri potete immaginare una pianta appena cioè un germoglio appena nato queste gelate eh abbiamo eh quindi la la tradizione come facevano una volta accendevano i fuochi in mezzo alla vigna nel 2017 ho acceso cento presse di paglia in mezzo al vigneto per salvare questa produzione e avevo alle sei di mattina quando eh è fatta l'alba avevo completamente sommerso il paese di Castiglione della Valle che è sotto il mio vigneto di fumo ma c'era una cortina di fumo che dico adesso adesso viene il canadero per per sperare di qui che sta succedendo e comunque non lo so se questo un po' di danni ce l'ho avuti eh parte dell'uva sono riuscito a raccogliere ho fatto un vino concentra straordinario il 2017 adesso lo imbottiglieremo ad aprile però sono eh niente ho lasciato di intentato quindi potete capire il coinvolgimento emotivo che uno cioè te alzi alle una di notte per aspettare il momento in cui cala la temperatura in cui bisogna andare accendo i fuochi tutti i miei amici sono venuti ad aiutarmi perché queste cose da solo ognuno non vale nulla quindi devi ci sono sempre o gli amici o Cenci doveva guardare i bambini e si è creata una comunità anche questo ragazzi anche questo è il vino eh mi raccomando senti invece io ehm curiosissima guardando questa aperta adesso è straordinaria cioè ve l'ho detto che aveva paura se tanto Eliana fa la furba qui mi ricarica bestia al vino già che ci siamo eh guardavo l'etichetta e eh tra i pochi chi ha uno scritto in latino sopra risarente di Lancellotti no? Sì. Per il periodo medievale. Questo è la eh un latino eh volgare latino del seicento eh sei cento trenta eh secondo Lancellotti è un eh un monaco olivetano che ha tradotto questo istoria olivetana che parla ehm è un testo che ho ritrovato grazie al mio mitico professore di storia e filosofia delle superiori un pazzo dell'archivio di stato eh grande prof Sandro Tiberini lo salutiamo lo salutiamo grande prof eh te voglio bene eh siamo andati all'archivio di stato abbiamo fatto questa ricerca e siamo riusciti a risalire su a tutta la storia di del del mia azienda quindi delle terre di San Biagio della Valle eh mille trecentottantanove furono donate da un ricco perugino tale Andrea Giole che poi è il nome anche di un vino quindi glielo ho dedicato nel Trebbiano eh fu eh fu regalata ai frati Olivetani eh questa terra come dote a una cappella in Porta Iburnia sì perché quando c'erano le donazioni delle chiese delle cappelle serviva sempre della terra per poterla mandare avanti altrimenti non non erano produttive non c'era e quindi da quel momento in poi parte cioè abbiamo la prima traccia di di questa storia dei frati che hanno disboscato hanno eh reso queste colline eh coltivabili eh poi altre tracce importanti che abbiamo trovato archivio chiesa quindi che l'archivio chiesa è dal millesettecento eh venti a ventisette trentaquattro una roba comunque millesettecentotrenta archivio chiesa abbiamo ritrovato tutte le mappe catastali con già la l'attuale cantina quindi lo stabile presente su eh sulle mappe infatti anche il pozzo che verosimilmente prima si costruiva il pozzo anche perché per murà per fa tutto serve l'acqua riporta milleseicentoottantasette quindi eh verosimilmente è è della fine l'inizio della costruzione fine del secente ha più storia la tua cantina che gli Stati Uniti ti rendi conto ma questa è una certezza ma se parliamo degli Stati Uniti degli Stati Uniti anglofoni se parliamo degli Stati Uniti degli Stati Uniti dei grandi indiani eh pelle rossa eh è un'altra storia ben più antica però non è documentata invece qui sappiamo da trecento anni e qui c'è l'opera minuziosa dei frati qui c'è l'opera minuziosa dei frati se in Italia abbiamo questa biodiversità così importante tutte queste varietà ma da anche il Sagrantino l'hanno portato qui i frati chiaro ma da dall'uva a tutti se abbiamo mille varietà di pomodori se ci sono eh questo è grazie ai frati perché con minuziosa eh diligenza e e rigore facevano nei loro orti la selezione dei migliori semi le portavano avanti e c'era una costanza anche perché loro erano un buon gustai davvero sì sì tu immagina che il Sagrantino esisteva solo nella versione passita eh chiaro che era un vino da cerimonia da cerimonia sì sì per le per le diciamo sante messe via comunque volevo solo dire che eh qualcuno si può chiedere perché questo programma si chiama Wine Design in realtà qui c'è c'è sempre un disegno nel senso che c'è un disegno come visione ma adesso è il disegno di vino con tutti questi frati di vino esatto ma c'è anche un disegno del paesaggio perché alla fine è grazie a questo lavoro del diciamo dei filari eccetera che si è disegnato anche il paesaggio nel tempo cioè l'Umbria è stata disegnata proprio grazie a al vino ma anche all'olio e tutte le produzioni tipiche del territorio assolutamente sì chiaro ma in particolare gli olivi portano dietro una storia incredibile sì è una cosa anche perché sono molto più longevi rispetto a le viti sì ah infatti durano un botto di più sì 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 questo di sicuro e comunque i frati ai frati bisogna riconoscere questa questa lungimiranza questo questo lavoro metodico di catalogazione e selezione che è arrivata fino adesso l'Italia ha per esempio sui vitigni ha più vitigni l'Italia che tutto il mondo messo insieme come patrimonio genetico cioè è una cosa straordinaria in questo mondo in cui davvero si stanno appiattendo cioè la biodiversità si sta appiattendo e la biodiversità è quello che ci permette cioè sintetizzando se viene una eh un'epidemia di un un insetto una ma un qualsiasi microrganismo che che distrugge la la le coltivazioni la biodiversità ci permette di superare questo problema perché avendo differenti eh differenti eh corredi genetici si salvi si salvi è questo il punto di tutto è proprio il motivo per cui lottiamo tanto contro gli OGM certo è questo il punto di tutto perché l'OGM nel momento in cui viene attaccato se tutto dopo se tutto è OGM ciao non c'è più niente eh infatti non ci ho mai pensato a questa cosa questa è la biodiversità il punto di tutto il punto di tutto è la biodiversità abbiamo lo spoiler eh o sbaglio attenzione no 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 volevo pure l'attenzione ancora dato che stiamo parlando di radio mind design no quindi mh concentrandoci un altro pochino sull'etichetta qua abbiamo un simbolo molto particolare che è stato si eh stilizzato quindi ancora una volta la tua filosofia di innovazione tradizione sì da dove l'hai preso questo questo logo che poi proprio logo di tutta la tua cantina sì la tua essenza questo è la stilizzazione del logo dei frati olivetani che in quanto ciò proprio su sopra la porta della cantina un basso rilievo in travertino in quanto lì è tutto un travertino tutta la casa è murata un travertino il suolo è ricchissimo di travertino e poi lo ritrovi sul vino salati sapidi io non ci riesco una mazza lo sento e il logo quindi rappresenta il Golgotha quindi le tre i tre monti della crocifissione con sopra eh il logo dei frati è una croce e due ramoscelli d'olivo eh la croce ognuno c'ha le sue ci ho messo i quattro puntini che invece sono i i le quattro generazioni della della mia della mia della storia del di questa terra e e quindi ecco eh la mano questa c'è stato un lavoro importante con un amico mio carissimo che è un genio che ora è un importante designer della di Londra e il fratello mio che anche lui architetto quindi hanno studiato e in effetti rappresenta perfettamente quello che l'innovazione una famiglia di designer vedi che non è un caso l'architetto non è un caso certo lui disegna il paesaggio lui è anche artista eh che siamo stati da lui un'azienda che costruiva delle delle opere fatte un po' sul netame no no è ferro cioè sono gli scarti dei dei delle attrezzature agricole che hanno lavorato sulle mie terre levigate dalle terre e hanno una seconda vita vengono saldate e riassemblate insieme e e mi arredano la cantina non si butta via niente ragazzi mi hanno fatto anche delle offerte eh importanti per venderle e dico ma no ma sono tanto belle me le tengo io ma perché nella bariccaia c'è una capretta ma dopo c'è la capretta è diventata rappresentante della bariccaia la capretta è l'opera di maturità quella quella dimensione per spieghiamo se non si capisce eh di dimensione eh reale quindi una capra grandezza reale che viene eh dal dal riutilizzo di un vecchio cric che avevo in officina e dalle eh dalle zappe della eh della zappatrice tutti che so tutti organi dei dei attrezzi agricoli consumabili comunque quindi in un certo punto verrebbero buttati via e e io mi diverto e cantina c'è un cieco sostenibile oltre che biologica cioè lui non dorme mai praticamente beh non so quanto tempo c'hai quanto ti dorme non coglie uva hai cambiato comunque né quanto tempo lavori ma è la qualità del lavoro e quanto rendi quando fai le cose io so io so risolutivo e sei qualitativo io so risolutivo vogliamo passare a una degustazione della di anticello c'è una vai un secondo c'è un 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 personaggio per di Perugia molto eh importante e che comunque nella sua semplicità c'è da sempre delle dei dei spunti filosofici e in questo caso è il Gorino sì se lo conosco e allora dice pensatore libero che libero pensatore bravo e e dice che eh fate poco perché eh chi chi fa tanto ma quel tanto vale poco è inutile quindi fate poco ma che quel poco sia molto infatti è vero infatti io sto sbagliando tutto qualità non quantità Nicola qualità qualità fondamentale faccio troppa roba mi devo dare una calmata allora abbiamo per dei limiti proprio tecnici però tu tanto è bene tanto è bene come il negozio dei cinesi alla stazione tanto è bene credo che credo che sia un marketing straordinario l'avete mai visto tanto è bene io ce l'ho sempre a comprare la cintao mitica birra cinese fantastico ma questo dovevi dirlo che è la birra quella lì vabbè 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 con la presentante qui di birra dell'ereo ma vabbè vabbè dai la cintao è la cintao non te vorrai vorrei fare io bevo l'acqua frizzante vorrei sfidare commercialmente il colosso ma la cina è impossibile abbiamo dieci minuti dobbiamo chiudere il cerchio sì 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 allora facciamo una degustazione veloce di veloce tra virgoletti di anticello perché ha questo nome anticello anticello è il nome del vocabolo quindi la collina dove sta il vigneto si chiama anticello ok figo attenzione abbiamo qui la freschissima sommelier due sommelier qui anche un sommelier ancora più giovane insomma io ho scoperto solo questa salinità e basta mi fermo per evitare dire cazzate della mia ignoranza però ci vuole sempre quello ignorante perché voi date troppo per scontato certe parole assolutamente guarda c'è una persona che non è tra virgolette formata e beve il vino ti può dare più spunti reali e limpidi di chi magari fa una degustazione costruita quindi assolutamente sì è bene fare delle è bene avere appresso un Nicola ignorante esatto ci vuole sempre un Nicola ignorante senti io comunque già notavo da prima che è un colore bellissimo che ha questi riflessi dorati non so se si riesce a far notare dalla dalla video e poi era come grechetto è un G5 quello di Todi molto più gentile rispetto a quello orvietano che ha magari dei rimati un po' tu facei no come mentre qui come diceva Nicola ignorantemente però abbiamo una bella sapidità che è data a questo punto dal terreno perché abbiamo un terreno calcare terroire uso le parole terroire è un'altra cosa volevo fare il figo non ce l'ho fatta terroire è l'insieme esatto di cosa Nicola tutti gli elementi della natura eccetera eccetera va bene dai ce l'ho fatta alla mano dell'uomo avvisiamo Anna Chiara esatto Anna Chiara poi mi castra subito su queste cose non la chiamate che già già se saranno arrizzati peli sicuro lei avrà fatto già di solito lei fa quando qualcosa non le va bene sì dobbiamo portare qui Anna Chiara la prossima volta portiamo Anna Chiara sicuramente con uno champagne a questo punto per forza è un pezzo di pizza però gourmet sicuramente se no ci uccide senti c'ha un bellissimo e elegantissimo finale a mandorlato che è un po' tipico e all'ingresso è intenso ma un intenso non tanto di fiori ma di frutti proprio bellissimo io ci sento un frutto un po più acido non tanto un frutto dolce qualcosa che mi richiama un po' il cedro il pompelmo questa frutta citrina no attenzione che la prova del nove vai vai no 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 ma io ascolto cioè io di solito le mie degustazioni sul vino dici mi piace o mi piace io sono molto sintetico no no sai cioè ci sento tanto zest che è la grattugiare del lime sai quella quella freschezza che però poi va in chiusura con la sapidità e la chiusura mandorlata che è tipica del grechetto però è tanto tanto varietale in questo caso sì sì dopo il grechetto è un'uva intanto ricca di tannini e anche questo dà delle sensazioni di importanti in bocca cioè questo vino riesce tranquillamente a sostenere delle la carne chiaro non non a carne rossa un brasato però delle carni bianche carni bianche assolutamente con i formaggi ce la fa tra la mia ignoranza posso dire che è un bianco strong lo definirei sì assolutamente bianco strong ciò non è dedicato anche perché è una definizione perfetta dalla mia ignoranza può essere anche che questo strong tu lo vai a definire il fatto di la gradazione alcolica che questo 14.5 che nonostante sia alta per un grechetto non dà affatto fastidio cioè lo senti nel finale il che è giusto ma in bocca è l'intensità fruttata del grechetto e poi la sapidità quindi è veramente un vino elegantissimo sì grazie questo è poi di quello da io non ci capisco una mazza rispetto agli altri bianchi che sono più delicate sì per esempio un trebbiano è un po più docile no come bianchi no chiaro questo è il passaggio tra i bianchi e il rosso questo è il vino di mezzo è il vino è un vino gastronomico è un vino da pasto chiaramente non è vino da da aperitivo non è la carne ci sta con la carne con i piatti della cucina tradizionale umbra questo è il vino è il vino che si sposa si sposa meglio e hanno una straordinaria longevità sì abbiamo ho riassaggiato te lo dicevo prima 2009 2009 ma di un'integrità sorprendente che quasi mi ha impressionato vino di dieci anni vino bianco di dieci anni però perché siamo in italia ci sorprendiamo in francia è la normalità quando uno lavora bene a delle uve sane e un territorio della terra e che te lo permette i vini bianchi sono da invecchiamento e questo è una bisogna rimarcarla questa cosa perché non solo in francia si fanno vini bianchi che possono essere bevuti alli fuori dell'annata secondo me un vino buono a distanza di anni può solo che migliorare di sicuro non peggiora buono molto buono cioè beh nicola da ignorante approva questo vino molto buono senti parliamo invece della novità della cantina cenci cos'è che hai che sta aspettando sta affinando e che io sono curiosissima abbiamo dei tempi stretti tre minuti tre minuti parliamo della novità abbiamo in elaborazione un metodo classico straordinario con delle caratteristiche è una procedimento secondo me ho trovato abbiamo trovato la strada per poter vinificare un metodo classico in umbria cioè vi io come lo fa ne champagne sì il metodo è quello dello champagne quindi la rifermentazione in bottiglia la grossa differenza tra il prosecco e lo champagne sto semplificando la differenza tra il prosecco e lo champagne che lo champagne ogni bottiglia è una storia se ogni bottiglia rifermente in maniera individuale all'interno della bottiglia poi la bottiglia viene posizionata in punta quindi a testa lì in giù i lieviti scendono sul fondo viene sboccata e il vino è limpido e ogni bottiglia è diversa un'altra perché ogni bottiglia fermentato singolarmente il prosecco o metodo charma è una rifermentazione quindi si parla sempre di rifermentazione a seconda fermentazione alcolica in autoclave quindi su delle botti autoclave è una botte chiuse che permette di mantenere all'interno la pressione e dopodiché vi è una fanno una imbottigliamento isobarico quindi che permette di mantenere quella pressione di dentro e quindi parliamo di due mondi diversi parliamo di un mondo dell'artigianalità dove dove da ogni bottiglia può essere un fiasco capito un po diventa bottiglie possono non aver finita una botte dove è tutto più semplice da gestire quando viene fuori questo questo allora è stato fatto nel 2016 2017 2017 è stato rifermentato e adesso ha fatto tutto il 2017 2018 febbraio 2019 avremo l'anteprima perché perché non ci voglio fare il natale non lo voglio un bottiglia prima del natale se no finisce subito e tutte ste fatiche vanno solo a finire sui soldi e dei soldi non ce ne famo niente qui siamo ben più profondi della del semplice persone serie ecco quindi da febbraio almeno me il godo tutto l'anno va bene febbraio non natale non mare io sono d'accordo perché odio il mare vorrevo dirlo esplicitamente la è stato rifermentato perché non l'ho detto è con il mosto del vino della del mosto della vendemmia dell'anno successivo ecco quindi la peculiarità è questa non innalza il grado alcolico quindi ci permette anche quello che mi spiegavi prima centro italia e al sud con questa tecnica potremo fare il metodo classico altrimenti riservato a vitigni non maturi non che non riescono a maturare quindi dovresti aggiungere lo spediente per noi intanto chiudiamo il podcast ma possiamo continuare all'infinito allora va bene allora intanto salutiamo il podcast grazie per essere venuto in puntata grazie a voi frattempo noi intanto continuiamo su facebook quindi se andate a rivedere il video si la puntata la trovate su facebook su youtube esatto su spreaker su itunes su spotify ovunque ok quindi lì ciao ciao salutiamo intanto il podcast noi continuiamo il trance se abbiamo delle domande magari non lo so va bene intanto ciao per tutti quelli del podcast ok in diretto dal mio canale ok possiamo continuare tranquillamente vai quindi quali uve usato scusa allora la base di questo metodo classico è il trebbiano trebbiano pro canico quindi uva tipica sempre del centro italia sempre toscana e siamo riusciti ad avere dei risultati importanti e sono un sacco contento adesso ci ritroviamo qui a febbraio 2019 per stappare in diretta la prima bottiglia di metodo classico cenci e un modo da imbrattare tutto questo tavolo così pulito in modo che rinnoveremo poi l'attrezzatura ci prendiamo il prossimo appuntamento allora per assaggiare quindi hai detto febbraio giusto quindi bancano po di mesi 12 siamo inizio marzo no comunque lo spettacolo cioè io voglio bene a quest'uomo anche se l'ho visto solo una volta allora io lo spiegavo non è vero abbiamo fatto un'altra diretta da umbria gridaterra dal mercato coperto è vero anche lì è stato uno spettacolo e anche lì ma vedi ci ritroviamo solo per le cose serie hanno fatto una domanda attenzione abbiamo una domanda il dosaggio del metodo classico extra brut brut eccetera eccetera allora attenzione vai no zero allora non doserò niente sarà un pado se un non dosato quindi verranno le bottiglie una volta sboccate ricolmate esclusivamente con con lo stessa con lo stessa con la stessa bottiglia quindi senza zucchero aggiunto senza licor d'espedizione niente di niente perché penso che bisogna cioè noi qui abbiamo il territorio abbiamo la qualità delle uve e non ci abbiamo bisogno di espedienti tecnologici per aggiustare niente il vino viene bene valorizziamo il vino e che sia vero come siamo veri noi come come è l'anima degli umbri non pochi pochi merletti infatti io sono d'accordo ma infatti spesso c'è questo faccio un po una divagazione filosofica ma spesso viene criticato l'umbro per questa cosa chiusura dal fatto che sono anche il pino noi ho un grande legame con il popolo appenninico no che a primo acchito può sembrare un personaggio un po che si fa i cazzi suoi che via in realtà è un personaggio vero nel senso che io difendo sempre l'umbro e sono tra i pochi devo dire la verità perché oltre all'apparenza c'è un animo che è incredibile che viene fuori dopo un po ed è un animo vero io faccio sempre il paragone tra l'umbro e il sagrantino perché il sagrantino ha questo tannino un po aggressivo all'inizio chiuso e ha bisogno del suo tempo tu l'umbro e parlo da napoletana ha bisogno del suo tempo per aprirsi per dire aspetta ok possiamo essere amici ma l'amicizia nel senso di interazione intesa in questo senso no anche il sagrantino vuole il suo tempo per per uscire ad amalgamarsi eh con l'ambiente stesso esatto io infatti di solito do sempre del tempo a diciamo all'autoctono perché secondo me eh quello che ti fa vedere all'inizio non è mai quello reale no è sempre un po fittizio sempre un po recitato no all'inizio come me che mi vedi ah in napoletana allora mi volevano sai un po più sborona un po più così infatti tu ce l'hai un animo umbro secondo me all'interno perché tu non sei proprio napoletana del del metodo classico napoletano però non toccatemi la pizza no la pizza non toccatemi la pizza neanche la pastiera ti tocchiamo non ti preoccupare il babà ah non mi ezi il coro vabbè che so vabbè ma lei viene dal vomero gente ricca si adesso dici vomero qualcuno comincia ma non sei del vomero dai un po' primitro penso facciamo queste ma ci abbiamo altri spoiler su cosa stai lavorando in segreto no io c'ho ma c'è una troppo una domanda cattiva eh no cattiva insomma vuole un po' mettere pepe sul fuoco no pepe sale si si ubriano anche il pepe vedi fanno la tostatura del pepe è fondamentale per un ottimo cacio e pepe se non fai la tostatura del pepe non sa fare un cazzo della cucina stasera faccio cacio e pepe io c'ho invece le tortille vabbè comunque la mia domanda importante è anche la diretta sta per sopparsi ma non ce ne frega noi continuiamo anche all'ipuori ormai sembra rotta lì no no è che la mia domanda è che quando si parla di metodo classico no è sempre un po' nel nord Italia il fatto che ci siano dei terreni dei climi un po' più freddi queste escursioni termiche importanti perché oggi e parlo dall'Umbra e parlo dalla Campania si stanno sviluppando una volontà di fare questi metodo classico da te che lo fai allora sapete il metodo classico lo champagne nasce perché il vino che producevano faceva cagare è questo il punto di tutto adesso cade cade tutto il mito però è vero facevano dei vini estremamente acidi imbevibili casualmente stiamo parlando della Francia stiamo parlando della Francia hanno aggiunto dello zucchero perché il vino era più potabile questo vino casualmente ha rifermentato in bottiglia dici cavolo è buono con le bollicine questa è un po' come è nato lo champagne quindi è un vino tecnologico da uva di merda noi facciamo un'altra cosa noi lo facciamo perché ci piace lo spumante ma lo facciamo con l'uva buona infatti non tocca aggiungere tutte le liqueur di spedizione è come è nata nella birra la IPA l'India Peleil ci hanno fatto vi dovevo portarla fino in India quindi hanno scoperto che casualmente io questo lo paragonerei un pochino di più all'utilizzo della Barrick che si è sempre una modalità di export quindi caratterizzare il vino dalla Barrick caratterizzare il vino dal lupolo che garantisce comunque una conservazione e secondo me anche sulla birra sarà una moda che passa come è passata sul vino quella della Barrick è già passata è già passata e ritorneranno le grandi basse fermentazioni torna subito la Pils ma c'è già il fenomeno della Pils io sono un pro alta fermentazione quindi per piacere non smettere io bassa fermentazione tutta la vita adesso c'è una spinta incredibile verso il Pils le grandissime birre da dove vengono? dalla Germania super bevibile no attenzione bocciatissimo Inghilterra no la Repubblica cieca ah beh Pils vuol dire è quello è proprio il paese è proprio il paese sono felici gli amici tedeschi che hanno la Kölsch Pilsner quella tedesca di Colonia che pronuncia è perché ho fatto l'Erasmus in Germania è vero l'ho letto ieri sera sul tuo Facebook ah vai a fare lo stalking sito che ti ho trovato la foto mia di 10 anni fa o voyerismo voyerismo totale voyerismo totale bene dice oh direi che abbiamo abbiamo fatto il record di Radio Design abbiamo superato tipo quasi un'ora di diretta ma quando l'argomento di qualità e si parla bene il tempo vola ok allora ti aspettiamo il febbraio l'anno prossimo assolutamente poi ti porto un po' di Marisa Cuomo che sento che è sta Marisa Cuomo è roba napoletana immagina è una Pasteur è vino sempre mio è Salerno lì sì però insomma si ritrova no vedi però capito c'è sempre è successo anche tutto dopo quando gli dicono so di Napoli che è di Salerno non è vero sei salernitano che dopo però se quelle la roba buona è tutta napoletana e io gli ho detto che ti porto il vino campano non napoletano ok allora allora adesso stai diventando un salotto più che un programma radiofranica tanto qua nessuno in linea no no facciamo cazzo è già tra di noi facciamo l'ultimo video sempre attenzione vai soltanto per la la giornata che fai domani vai che può essere interessante va bene vai chiudi riapri ultimissima domanda per Giovanni domani hai un corso di formazione accreditato sul biologico come mai questa voglia di dedicarti ecco all'insegnamento abbiamo un'associazione che si chiama Vignaioli Resistenti Umbri crediamo in un percorso comune di crescita e l'unico modo per crescere è approfondire quindi studiare e condividere i nostri studi in particolare domani avremo il professor Altieri che è uno dei esperti massimi esperti di difesa della delle produzioni biologiche e approfondiremo quindi il tema della peronospora dell'oidio della botrite e quindi la lotta biologica quindi la lotta con metodi biologici per ottenere per debellare queste malattie avere delle uve di qualità fantastico quindi una persona che comunque si mette a disposizione anche della formazione dei anche dei giovani perché immagino che i partecipanti non siano soltanto del settore magari troverai qualche studente in questo caso è un corso di viticoltura biologica avanzata è per addetti le devi capire addetti al settore no io ho fatto formazione per esempio per la ho fatto un corso della regione Umbria che si chiamava esperto nell'esportazione del ma come ricordo e vabbè io ero docente io ho fatto un sacco contenti io ho fatto due lezioni giù un cantino da me sull'export no io avevo il modulo di viticoltura ed enologia e tutta la parte legata alla produzione e alla e alla la parte produttiva del vino va bene un produttore si sta rompendo il dito lì un produttore attivo a 360 gradi no sia con l'e-commerce e-commerce che però non hai quindi con la comunicazione con la formazione sulla terra e adesso anche in radio perché poi ci vediamo al prossimo appuntamento febbraio 2020 prendete appuntamento sull'agenda io direi di fare un appuntamento prima a sto punto visto che l'unica cosa che ne abbiamo fatto è la più importante il brindisi facciamo un brindisi insieme ah è vero c'è condivisione ma che legata bestia qui ci stiamo riassendo grandi salute salute facciamo un brindisi finale grandi salute mi sento sempre quello che ne sa meno però sono contento lo stesso noi comunque perché parliamo nei microfoni ma perché ci sentiamo meglio su facebook ah su facebook siamo ancora in diretta certo solo sul podcast anzi sto registrando di nuovo sul podcast è diventato un salotto enogastronomico della Perugia Mala dovevamo portare il cibo stasera vogliamo ci mettiamo la porchetta andava bene questo ma la prossima volta infatti fanno proprio cena cena con cenci la cenci cena a cena con cenci sta finendo malissimo chiudiamo tutto interrompiamo potremmo degenerare basta è stato un sogno salute baci grazie Giovanni salute salute grazie all'istituto di design andate a trovarlo in azienda ci saluta anche qui passa Ivan ci fa diversi siamo veramente al top va bene è stato bellissimo salute ciao ciao fantastico che caldo comunque grazie a tutti